Le persone che sono state costrette a lasciare la propria abitazione, lo ricordo, usufruiscono del CAS, del contributo di autonoma di assistenza ed è di 400 euro, va dai 400 ai 900 euro a persona per ogni mese, suscettibile di integrazione se nel nucleo familiare dovesse esserci una persona, viene brutto dire anziana, 65 anni, io ne ho 69, una persona che abbia superato i 65 anni oppure che ci sia nel nucleo familiare una persona disabile. Per quanto riguarda la gestione di questo lavoro, che è un lavoro tecnico e amministrativo, abbiamo pensato non può essere affidato ai singoli comuni o alla Regione o allo stesso nostro Dipartimento di Protezione Civile o Casa Italia. Abbiamo pensato ad un commissario straordinario che sarà nominato su proposta del sottoscritto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Per quanto riguarda il costruito c'è un altro intervento di ricognizione assieme alla ricognizione che i 100 tecnici stanno continuando a fare per gli edifici maggiormente vulnerabili e che presumiamo, ci auguriamo, possano completare entro quest'anno. Abbiamo posto a carico dei sindaci, perché legittimamente competenti, il compito di redigere un elenco per i rispettivi comuni delle unità abitative che siano dotate di ogni certificazione prevista per questo tipo di costruzione. Quindi non solo concessione o licenza, ma anche tutto quello che serve per certificare la rispondenza dell'edificio alle leggi vigenti, per uscire dall'eufemismo capire quali sono le case abusive. Per carità ci auguriamo sia un fenomeno assolutamente marginale, ci lo auguriamo tutti, qualcuno solleva dei dubbi che possono apparire legittimi. Lo ripetiamo, il Governo non intende tirare fuori un quattrino per le case abusive o per le seconde case. Questo per essere assolutamente chiari. Grazie. Grazie. Grazie.